Cosa? 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 Non fa niente Non farsi Non è difficile Allora è pieno È preciso Non è situación Ah E la rivedenza Vieni Non è Prima 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 puta laggiù non ce n'è acqua ti hai ucciso Francesco 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 chiedili come si chiama 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 tu le gambe Francesco chiedili come si chiama 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 non la devi spruzzare in faccia, sarò sul corpo non in faccia e dove è la madre? non in faccia, sulla pancia non in faccia, non in faccia non in faccia, non in faccia 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 non in faccia